voglio me n'altro ciao ci siamo? allora domanda do io 150 euro adesso a chi mi spiega perchè la gente mangia le larve su tiktok ma non le mangia davvero no no le mangia così eh la tocca con la lingua no le mangia guarda quei gente che c'è su sta cosa aspetta un attimo ti trovo un video subito appena appare una live schiaccio live il secondo il tempo bella dia ti va a salir senza domande scomode no dia quindi perchè ci sono due ragazze che non possono essere viste no una ragazza si è vista in realtà lei no lei si è vista che è via no no so boys colpa di Diego non è colpa di Diego cioè è colpa di Diego ma non è colpa di Diego stava parecemente scherzato si vabbè l'idea pure io ti ero io bello stava scherzato abbiamo accittato questo scherzo mentre eravamo in line abbiamo organizzato questa gheghetta simpatica è piaciuta ragazzi è piaciuta recitazione che voto dà della nostra recitazione secondo me è buona buona si allora non lo so raga Diego è arrivato appena arrivato Diego si è staccata la live quindi non so se è colpa di Diego oggettivamente io credo proprio di si pure lì qui abita questo condominio si ci vuoi cantare in acustico certo allora prima vi spiego però il significato perchè questa canzone ha un significato ok io ce l'ho con quei rapporti di fidanzamento dove la tipa o il tipo perchè può esserci in minoranza c'è anche la tipa è palesemente più figa di lui ma è proprio palese cioè sembra proprio Milan salernitana per fare un paragone calcistico o l'amore vince sempre io sono uno che sembra favorevole a tutto però certe cose sono in cante sono indecenti ok e quindi io ce l'ho vado in questa canzone a insultare il tipo e vado a dirgli perchè ti fai prendere per il culo così che questa ti usa per viaggi cose soldi tanto tanto quindi ha un significato alla fine ma la chiavo io che sono comunque un bel ragazzo devo sfociare cioè è questo il succo perchè tu puoi regalargli le cose puoi essere il suo fidanzato ma alla fine lei cercherà sempre altro ok quindi io vado a insultare lui in questa canzone è un po' cioè inizia tipo te lo sentire no no a cappella a cappella a cappella a cappella vai ma c'è com'è cantata vai 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 allora la tua pussi vuole me eh la riempio dentro manco fosse un bignè eh poi viene da te ma in fondo in fondo pensa che eh si scopa a me ma sta con te chissà perché eh chissà perché ti dice no aspetta è un po' che non la canto eh ma il tour l'hai fatto no l'ho cantata una volta in disco ma cioè su spotify puoi metterla è fighissima c'è una base della madonna ci imbannano no non è vero no no ci imbannano per il copyright si ma la d'autorizzazione io giustamente è mia ma la piega è l'autorizzazione io ma l'ha distribuita con qualche label questa 35.000 è buono è buono ma qual è la messa? eh ma è da discoteca? si dai mettila un pezzo dai sti cazzi ma che figo ma com'è l'idea la caffè? la tua app si vuole me la riempio dentro manco fosse un pignè eh dove vien da te ma in fondo in fondo pensa che si scopa me ma questo è quel movimento da tre a fermi in un sacco eh oh no censurato il mio tipo fa imbarazzo lo abituata bene tra le gambe c'è un palazzo ok va bene così basta ok finora se l'hai cantata? si in discoteca però parliamo di roba vecchia ora i miei valori sono cambiati ok ma perché perché l'idea di voler fare una canzone per dire a questo eh perché il mio amico mi ha detto facciamola comunque hai fatto X on the beach tra noi hai fatto l'eredità ci sta il tema le persone che c'è e let's go e let's go ok poi c'è ora non la pubblico più tre cose che porteresti su un'isola deserta Daniele il pettine sempre uno spazzo o qualcosa di quelle per forza ok perché comunque il look il look il look ma te hai una foto tua di te con i capelli corti? si vuoi vederla? però sono anche un secco proprio marcio sono secchino spiega che vado su layout c'è Cioffi che ha visto bene il mio rullino è molto carino si layout è degustato con gli altri compagni di squadra vai che layout che c'ho la cartella con le cose no preferiti ce l'ho ce l'ho sono proprio secco ma quali ma gli altri due ospiti condano i grande content aspetta ma che cazzo c'è in sta galleria e sono i tuoi preferiti questi ok lascia fa lascia fa è un po' brutto aspetta che ce l'ho allora un ospite non mi risponde gli altri due invece dobbiamo capire il modo perché sono in remoto come collegarli ah gli mandiamo il link di discord david layout layout si no sto guardando ragazzi c'è un po' particolare ma te quindi te con i capelli corti official non ti hai si ce l'ho ma te non te li dai due o tre anni ma perché non trova la cartella layout dico io la trovo sempre eccola qua va eccolo qui qui pesavo come eh ma eri proprio più piccolo no eri più piccolo non conta brutto come la maglia della juventus l'altro ospite ragazzi Fabiano non vuoi no devo ancora arrivare ma diamo un indizio sul prossimo ospite a zero eh perché se rispondono devono rispondere raga il cioffi io perché non lo pago perché ovviamente non è professionale ma che sono tutti quello sottofondino eh c'era prima poi è crashato tutto ma ci vuoi raccontare come è nata la tua storia d'amore con la tua con Lady Tarzan chi è Lady Tarzan? è lei ah Lady Tarzan ok mi scusi mi scusi niente quest'estate quest'estate diciamo che son partito col tour posso raccontarla in maniera un po' allegorica allora son partito non so se conoscete Madda vabbè si son partito con lui a fare il tour della figa e le tappe principali sono Jesolo Riccione Rimini vabbè Forte di Marmi Gallipoli ok queste sono i le mete che pullulano da giugno ad agosto di appunto tubero giallo e niente giugno e luglio sono stati dei mesi molto intensi io e Madda abbiamo fatto una gara pazzesca non si sa chi ha vinto ancora è bello etichettare tutto una gara vabbè ma ci sta sei in estate sei single così quando tutto un tratto che giorno era il 23 luglio 24 24 di luglio ho conosciuto questa bellissima ragazza leopardata ma già al tempo era leopardata no blu è rivestita e lì ho detto guarda questa mi piace tanto molto più delle altre quindi è meglio che non meglio che metta la testa a bordo meglio che non faccio più a gara con Madda ma lascio careggiare da solo ok e tu però Madda gran fratello di battaglie ma te hai messo la testa a tosto la testa a posto no ma sto andando per metterla ok ok quindi comunque ancora ora sto mi sto comportando seriamente da qualche mese ormai da questa parte confermare non faccio più cazzate non faccio più cazzate poi qualche cazzata c'è ma è sempre magari non so stupidata mai come nulla di concreto ma vieni qua ma è convivenza ora è diventata convivenza no la convivenza mi ha fatto st'estate ok basta quindi mi dispiace ok e niente quindi finché vieni anche tu qua dai ma stiamo paresemente scherzando hai detto che non c'è nessuno no serio bella domanda 10k no io ho detto che mi taglio i capelli mi faccio pelato alla metta quando ricevo un bonifico pari al numero dei follower che ho su instagram quindi un euro a testa ragazzi 112.000 eh va bene tiraci a zero con la metta lo fai proprio sì 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 e poi non te li ritorni minchia pensa se ne devi lasciare tu 2 milioni su instagram 1 milione 800.900.000 minchia non lo faresti non lo faresti sì subito ma se c'è bisogno la ripasso pure per un paio di mesi ma pure ma per milioni d'euro pure una volta al mese per un anno hai capito pure per due mentre io stiamo a parlare davidio faresti la boccetta l'ho già fatto mille volte ti ho fatto la boccia ti faresti un cambio un taglio di capelli orribile per 100.000 euro davidino che te lo devi tenere però per un anno 100.000 euro un anno orribile cosa intendi ti dico che ne so due creste era stato al centro ma no per un milione di euro sì per 100.000 euro no cambieresti sì il colore per 10.000 euro sì biondi biondi cioè come si chiama so già biondi vino do platino no proprio senza ossigeno vabbè devo chiamare il mio socio perché ossigenati ossigenati bianco cioè sembro goko superstrian 3 se li faccio biondi ossigenati ah ok sto chiamando il mio socio chi è patrizio morellato serve proprio in questo momento serve il signor pat lei lo conosce ovviamente il signor pat dove stai? aspetta aspetta dove sei? per un milione la città la faccio ogni anno qualcuno che scherzi no io la faccio già ok scherzi dammi tutti sti milioni quanto vieni dai non tarda anticipa fidagli 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 zio amori vieni solo c'è in conto ok ok va bene ciao ciao ho perso il fanzacaccio perché fosse una volta io mi consiglio di aspettare mezz'ora te l'appoggiare tu te l'appoggiare te l'appoggiare tu chi è? ma diciamo c'è dimmi che succede quello che succeda si ti puoi tranquillamente sta arrivando patrizio si e ti potrai tranquillamente difendere è accompagnato si come te accompagnato come te quindi potrete difendervi ma ti richiami celeste non succederà ti conoscono in chat di cosa vuoi stare il prossimo che è di pazza ma inizia mi sa che mi rimasta una no due no due 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 me la di occhio bro tu mi sei una caps ma il tuo piano dopo qual'è Dani io vado a scassarmi dopo in qualche locale stai dicendo lula palusa lula palusa vieni ci vengono gli altri sì cioè se andiamo in gruppo sì non è che a fare facciamo una lo banna no io non vero mai no c'è una tipa di là che sta male in camera perché non stai andiamo a lula dopo andiamo vabbè andiamo a lula ci siamo andati a lula cioè si è già venuto te comunque chat di amo ve lo voglio ricordare un po' di messaggi che mi piace però chi eravamo quella sera che eravamo a Moscova e poi si andavamo a fare serata con Gallia io eh quello è lula no non era Moscova Gallia credici non c'è fatto serata non c'è fatto serata io ho pagato pardo con Vale e Paolo ok e basta e allora chi cazzo stavo stavo con Willy Valerio Pat Monte non mi ricordo guarda là guarda Cioffi chiamiamo Cioffi amato non so che fa Cioffi mi incula la chat mi incula la chat guarda Cioffi Cioffi le calculo perché cosa fa sa che lui doveva portare 5 ospiti e grazie a Dio gli ha dato Dani perché se pisciava Dani allora anzitutto io dovevo portare 4 ospiti uno è arrivato con un ospite quindi già ci sono più ospiti due non mi stanno rispondendo uno era un ospite grosso quindi attenzione mi squilla il telefono un mio amico sta guardando la chat un saluto a Matteo Sabella un mio carico un saluto Matteo ciao Matteo Sabella bomber numero 9 allora Matteo Sabella tra l'altro è il più grande bomber e conquistatore di donne del Salento se fossi stato single anzi aspetta facciamo una cosa lo videochiami? ma videochiamiamo chiami il signor Matteo Sabella comunque signor in chat vorrei prestarvi i miei occhi ragazzi in chat anche io vorrei prestare i miei occhi per vedere non dico niente basta questo io c'è quello che do ti ho detto allora Matteo tu sei il più grande bomber del Salento ma qui c'è il più grande bomber d'Italia cosa deve fare lui per arrivare ai tuoi livelli? peloso rosata no no lecca gli socio allora ma che stai vedendo oltre allora non fate domande su quello che ha appena detto il signor Daniele perché ovviamente non spiegherà di più no no c'è qualcosa che tu fremmi di dire non lo so niente un annuncio un annuncio un dissing chi devo dissare? non lo so boh qualcosa qualcuno no vorrei vorresti? si ma non so che non è caso dissero dissero no chi? si uno della squadra lo puoi dissare nei limiti dell'educazione io dissero Valerio Mazzei? no ma così perché non viene mai da quello che ha più post sulla pagina della squadra ogni giorno esce un post suo se te lo comunque ci sta incredibile per me lo gestisce una sua fan facciamo gol vincevamo e pareggiamo noi nelle medie il post della pagina dissano Navidino dicono tutti quello che si massaggia dissano senza paura non perdiamo l'ora di farti tornare in campo quello che la ma sempre ha visto Valerio? no no uno che illude le fan già è brutto così lui è convinto di questo il portogallo incredibile non ce l'ho lei tipo è del San Marino nazioni che non ha nessuno io l'ho spuntato ti trovo? ti trovo adesso aspetta la cartina? mi manca veramente solo il portogallo non c'è il portogallo vabbè perché io credo di aver spuntato solo Italia credo no no io c'ho tutto Moldavia ragazzi è un'azione devastante cioè ci metto proprio passione ah ma lui c'ha comunque l'album dei figurine era a go mo te la trovo ho la storia che mi ha fatto un box domande e mi ha detto di quante nazioni io comunque rispondo io nei miei box domande rispondo a tutto nei limiti del non bannabile ovviamente sei mai stato shadow bannato su Instagram? sono uscito dallo shadow tipo inizio anno e poi da inizio anno ora ho preso una segnalazione una? una per? perché ho messo una foto in mutande da un fotografo che è un mio post cioè ho messo una storia che è un mio post ok che è questa guarda cioè io ho ho messo questo questo nelle storie c'è gente che sponsorizza intimissimi comunque con le mutande cioè ora non faccio vedere perché però mentre le storie questo ci faccio vedere guarda è incredibile questa cosa allora dove è che impostazioni assistenza richieste di assistenza violazioni vedi quest'anno ne ho preso solo una 19 agosto poi questa qui ho fatto il ricorso e me l'ha rimessa ok nudo e atti sessuali perché è ripostato ah ok chat se i vostri occhi potessero vedere quello che stanno vedendo i miei occhi chat in questo momento nascerebbero pagine di instagram sulla nuova fiamma nuova perché il passato ormai è una pagina girata non è ma per nascere il tesoro lo sapesse porco 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 aspetta qua rifresciamo se non rifresciamo qua oh che è successo ti trovo ti trovo ah ah guarda cosa posso no perché lei lei non lo sa non posso che cosa non posso questa cosa lei non sa questa cosa quale cosa ma sai che posso rivedere la live tanto faccio del link shhh guarda puttana guarda puttana faccio affinanza ok così c'è la lista ma la data ce l'ha ah ma poco la descrizione quelle stelle 156 sono arrivato 23 hai visto il bloc di valentine oh c'è un filo no ma c'è un filo vai sul bloc di valentine sai su cosa ha detto lei non abbiamo un mod che ci prende per il culo chi sarebbe scusa chi sarebbe questo mod no 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 it's not michelle no it's not michelle allora io devo trovare perché tazza non sa certe dinamiche magari no io seguo no le sai ciò che è nuovo per lui è nuovo ai suoi occhi io segui basta intanto io stavo cercando la cartina del eh cioè amore non ti offendere sono cose passate cosa la cartina geografica quella cosa è finita per il team no quella della nazione qua ma la trovo perché aspetta noi che sappiamo da rive pat le sgravate saranno il doppio abbastanza il signor pat venga quando arriva pat succede il panico io lo so già ma che pane non è un socio di freestyling no stavo andando stavo andando lo sto imparerà aspetta le da trovo ci troverà qua forse ce l'hai? dai la tendiamo con molta foga è qua è qua è qua ma dell'Europa eccola Europa e poi c'ho anche l'America Latina sono queste vedi? chiaro allora vedi che mi hanno fatto una domanda ecco vedi ti sei mai fatto una domanda Brasile ce l'hai? allora Brasile, Cuba, Colombia, Venezuela, Peru vedi con la cubana tu e il cavolo mi sentivo lasso i bastoni sciecherato ok allora in Europa abbiamo Spagna è sempre provare il fuoco vedi c'è l'Europa allora c'ho tutti i nomi segnati anche ok allora Norvegia, Russia, Lituania, Ucraina, Moldavia, Ungheria minchia minchia Valentina Ungherese è una roba assurda Repubblica cieca, Polonia Germania, Olanda, Regno Unito Francia, Italia, Albania, Spagna, Svizzera manca il Portogallo, la Bosnia la Grecia fai vedere fai vedere e il Portogallo il Portogallo è durissima trovarla tu conosci l'ex di Pat? Brisida certo la conosci? è sua amica si si erano il trio quest'estate lei? lei Brisida e la Bouchantel ah ok quando sei? 18 18 no 2002 sei e quindi conosci anche la persona cosa? a me sono 2003 si per curiosità conosci la persona che era nella stanza la ragazza che era in questo momento con Davide la conosci? non dire il nome forse si ok va bene dove l'hai vista? no grito ma che scantino che c'ho che c'ho ma sei tutto fluo blanziaca fiche queste raga no quanto gli hai dato? 8 ma l'ha mandata in avanti carine io scrocco sempre tu scrocchi arte povera se una cosa la puoi scroccare è più bella che se la paghi dove arriva ce lo dici per favore che cosa? che dice lui? il bomber il bomber che? sto mandando il link della diretta è super fanno lo dobbiamo invitare prima o poi ok va bene lo invitiamo ma invece gli altri? scomparsi tutti vabbè ti faccio vedere un nome ok eh il mio socio dov'è che? era lui non mi risponde muoviamo io che si collegava chiamalo chiamalo signori stiamo chiamando Matteo Diamante e Sasha ma Sasha chi? anima ah no Donatelli pensavo Donatelli quello che ha fatto come il programma stiamo trasferendo ah aspetto proprio il telefono pezzo di merda Mr. Diamante pezzo di merda grandissimo pezzo di merda Mr. Diamante bella bomber si ho capito Debo ora non riesco a ma quindi ho vinto il baroggiato al fantacalcio ma minchia Arnaudio c'è il 96esmo devi segnare vabbè io c'avei qualche domanda ok mi metto sul divano ti non hai fatto nient'altro da Max and the Picture no ma devo essere sincero sto provando a entrare in qualche altro reality perché è un mondo che mi piace ti piace fare reality secondo me è un mondo in cui posso dare tanto perché un personaggio come me secondo me non c'è domanda che non so se puoi rispondere ma io te la faccio ciao sei tornata se tu sai che vai a Axe on the Beach bentornata Martina Martina se tu sai che vai a Axe on the Beach non è il nome suo non è il suo nome va bene va bene ma lo so però ascoltami se tu sai che vai a Axe on the Beach si ovviamente dai per scontato che hanno contattato cioè tu hai casting dai 5 nomi di Axe ora carissimi di MTV non incazzatevi con me ma tanto vabbè tu quando fai il casting chiedi cioè ti chiedono 5 nomi delle ultime due ragazze nome e cognome possono essere ex fidanzate possono essere una botte e via ok 5 quindi loro poi contatteranno tutte queste 5 profineranno tutte queste 5 ok e in base alla trama però non hai detto che loro vanno si chiamano cioè scelgono una ok ma metti caso poi davvero se tutti dicono no non ti chiamano manca a te non ti chiamano manca a te no però è una cosa cioè la percentuale è bassissima si te sei entrato come ex o come no? io sono il primo che è entrato e l'ultimo che è uscito davvero? si bella storia sei rimasto allora che là come funzionano avuto rapporti con qualche donna lì dentro no lì dentro no no dico ma come funziona vince non ho vinto cioè non c'è non c'è un vincitore di soldi ok come esci però ti cacciano gli altri allora durante il programma ci sono state 4 o 5 eliminazioni ok perché no è perché tipo in casa si può stare in un tot di persone oppure la redazione magari non so vedono che io sono un personaggio che può creare che può creare tanti contenuti vabbè tipo faccio un esempio prendo in causa Matteo perché comunque mi ho fatto assieme se fosse entrata con cioè dall'inizio una tipa che cioè che avesse fatto la fidanzatina di Matteo ok quindi stavano sempre assieme e la redazione sapeva che Matteo era un personaggio che tutto il punto di vista dei rapporti così poteva dare tanto loro eliminavano la tipa ok chiaro così lui esplodeva ok e quindi cioè in base a quello che hanno in testa loro eliminano quello e farci una domanda quindi a casa due domande ti devo fare ma tu avevi un bel rapporto con Matteo nel programma bellissimo ok e si dopo sono successi fatti vabbè ormai passate abbiamo fatto pace ma non voglio una dei famosi e grande fratelli e invece tu quale preferisci te ne due no quale faresti l'isola farei perché un Tarzan come me selvaggio natura sfide sport sopravvivenza io vorrei fare troppo perché secondo me posto le ore in fondo lì e perché non fai i casting quest'anno a te te lo la chiamavano c'hai casting da questi programmi così grossi non è che ci sono cast allora noi facciamo un appello all'isola dei famosi per fuori prendetevelo prendete Tarzan e rendetelo il vero Tarzan ah ti farei fare ti farei vedere che cosa combinavo ieri a Giascavalli per farti capire di che gente che si difirmava di cose e io che facevo così questo è quella maglietta di Superman si si ma guarda guarda questa storia che face Filippo Fendi Yorra ma becca ne conosco che Superman deve esalentare a 5 euro ma sempre mi risponde Mario mi segue questo è un grande è un grande Lillo Mario De Lillo ma Patrizio dov'è ragazzi il signor Patrizio è lento diciamo che è abbastanza lento il signor Pat davidino che dici pollege come al solito pollege lascia stare a un incubo tu faresti un reality forse l'ha già fatto è un reality si è un reality è un reality come lo chiami il collegio il collegio è un reality è un'altra serie molto c'è capito è per minorenni capito davide l'ha fatto il collegio è sicuro fidanzato al collegio si ma salutiamo se ci sta guardando un saluto no dicevo dicevo è palesimento reale il collegio cazzo ne so tra te sei ripreso e ti fanno fatto tutto quello e poi chiamano come ti pare ti faccio reale allora gli faccio vedere un video di te la tua fiamma al collegio ma che c'è di male no no tranquillo tanto davide papà là acqua passata aspetta acqua passata che soffia senti me richiede cosa pensi però mi devi promettere che stai cosa pensi ma lei ma era quella secchiona no qual'era quella secchiona e non è aspetta barbito non è che sei qua che cazzo pensi che è questa no infatti poi mi arrestano sarà pure minorenni no aspetta 17 anni è legale cioè se io no 23 e va andassi con la 17 no fino a 18 è legale non è legale no legale l'età del consenso in italia a 14 anni eh però a 14 anni mi sento un po' capito ovviamente non ti è capitato faccio vedere un video guarda bene la persona non ti è capitato corteggio Sofia corteggiavi? corteggiavo si ma c'era già l'icontact non c'era poi un'altra persona tranquilla c'era davide e daniele cosa pensavi della mary ha scritto lei? si si se l'hai auto chiesto se l'hai auto chiesto allora è una bellissima persona ci fa piacere averla a ogni occasione un bacione mary ti amiamo e anzi spiegami come fai a cambiare i caratteri nelle chat di Instagram guarda guarda questo video che cringe guardala bene tra l'altro senti il narratore sembra quello di Winnie the Buffy è lui ti lo ricordi? aspetta ti faccio vedere una clip sua ma te lo ricordi Marti? Marti ti faccio vedere lei era la ragazza di Davide al Collegio sto spiegando che dire ragazzi si era tanto strana sono molto rilassato tranquillo si è lei ma tu hai visto il collegio? il suo lo guardavo dai hai conosciuto anche Bonny tra l'altro eh? hai conosciuto Bonny? mamma mia grande Bonny ma come? perché? in quel direzione Bon Bonny facciamo delle serate assieme mi stroccava gli omaggi grande Bonny direttamente facevi una serata non è un'altra così si ma si ma infatti mi stavo scendo però mi sono fermato i ragazzi i carabinieri sotto mi hanno messo la macchina in doppia fila ma te stai in macchina? si ci sta ma ma lui è Tarzan? in persona? ma cos'è questo? streamerio ah è il bot ma per forza ma lui è Tarzan lui in persona ragazzi non potete sbagliare il mitico è infallibile ma giù compro le ste candele sereno figliati di me Davide vuoi rispondere Mary sei l'amore mio te l'ho sempre detto non parlare con Tosto che lui fa finta adesso va a piangere lui fa finta ma l'altro ospite è colpa di Cioffi guardi in realtà no anche io aspetto il telefono è colpa dell'ospite il topic della serata è aspettiamo il pat adesso chiamo io Diamante l'hai già chiamato no l'hai già chiamato due volte poi dicono Marti esci fuori no è lui la merda suona ti attacca per me sta sta unendo divinamente le sue protuberanze si probabile Marti esci fuori cuore grande per Andre il mitico cuore per Andre non è tanto pure di intervenire Cioffi ma il signor Patrizio lo richiamo grande Vavalao Martina Smeralda il numero non c'è non rischio di dare come rinuncianti questa terra la sgravi sempre te comunque mi piace lui lui è un bello ok va bene è tipo esagerare ciao ci sono io in altra stanza mi avete scoperto riesco dai Martina puoi uscire tranquilla rega non capisco che sta succedendo in chat sono sincero che succede Davide stai tranquillo dopo ti mostro mamma mia cioffi però te lo giuro su quella cosa che sai che giuro sempre non c'entri niente te ok ok facciamogli chiedere no 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 perché io so che di Lele mi posso fidare che non dice ciò che ho scritto io so che sei un bastardo altro che ti ho giurato su quella cosa che non c'entri te no dico che sei un bastardo in generale si in generale si sei un bastardo in generale si assolutamente si solo nelle live in generale un pochetto si no nella vita no però nelle live si oh c'è Gianni in live che che è più un interrogatore dove ce l'ho ma il caricatore di che di questo eh ve lo sta in camera dalla malaticcia metti la bet cos'è la bet ma viene accompagnato Patrizio viene da solo non lo so la bet è la scommessa che loro vengono i punti canale non ce l'hai questa roba no minchia la faccio sempre io quando quando stremmavo ma in base a cosa Davide eh io tipo eh con chi arriva Patrizio no vabbè e metti tipo uno tipo due tipo tre ah è la scommessa si è qua non lo sapevi eh qua slash bet no 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 c'è proprio la bet di andare su twitch dove andare su ah non ce l'ho no ma è su impostazioni vai eh allora dashboard autore ok strumenti streaming ok no su il primo cosa che c'è il primo perché io tipo no no la c'è la prima cosa ecco gestore streaming modifica qua qua sul più bravo avvia il pronostico no avvia il pronostico vai schiaccio avvia il pronostico metti con che tipa con che tipa arriverà Patrizio ah no scusa so farlo so farlo ok dopo io tipo quando facevo la WL mettevo un x2 e chi azzeccava gli aveva i punti canale e poi magari non so 20.000 punti canale faccio il personal trainer cioè gli regalavo la scheda di gocci con line o il video saluto tipo 100 punti canale così lì quindi come si scrive ora cosa no no fai da lì l'ho fatto vai dove eri prima ci sto ok e fai avvia pronostico ok avvia il pronostico e scrivi con che tipo arriverà Patrizio e qua è più brisida è una zuccherina e loro cliccano vai zuccherina bello così boh ma basta e fai fai tempo di invio 10 minuti ok ok boh basta invia vai non sarei più ok e ora riesci il pronostico è avviato ok votate tutti o chiarrerà il nostro pad ok ok è figo muoviti in quanto poi scommetto dei punti canali dobbiamo mettere una ricompensa per chi ha zecca chiaro ok ma perché tu svelerai con chi arriva Pat certo però me la porto io 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 Davide e Lele ci dissociamo ma se lo fai io Davide e Lele ti sposiamo chiaramente vabbè love is love posso anche sposarmi con due ma cosa ti piace di Daniele se posso sapere la prima cosa che mi ha provato è stato lo smalto sulle mani amore mio padre fa l'artificiere ti do una botta dopo ci sta ci sta cosa ok giusto no c'è anche te Patrizio ha detto ragazzi 52 mila voti su aspetta chi è che stanno votando no che cosa sta succedendo qua aspetta 63 mila voti si per me stanno votando tutti brisi 63 mila ah perché non può votare più stanno ma quanta roba eh raga incredibile questo voto incredibile questo sondaggio quasi scontato che ci arriva Patrizia hai scritto Patrizia scemo vi amo chat Patrizia allora loro così cioè mi sa che chi chi ha zecca raddoppia i punti che ha scommesso e chi sbaglia li perde tutti ok però dovresti mettere magari quando finisci dei premi così loro possono riscattarli e ti esce di grosso ha riscattato il video saluto e tipo ha riscattato il video saluto tipo muoviti non so eh non le so fa queste cose non so così sembro più professionale di me è difficile che sia la Sophie se lei è già nella stanza no ragazzi si fa fuori strada queste buffonate perché avete proprio Patrizio arriva con il limone pesante con la Sophie incredibile lei ne sei biondo dentro sarebbe biondo ma ne sa più di me no ma lo facevi guarda io c'ho 7.8 milina su Twitch sei forte ma che periodo lo facevi l'ho fatto con le gare da Discord le prossime volte l'ho fatto da gennaio 5.8 ma poi ho smesso perché perché rompevo il cazzo mia sorella perché c'era il covid e siccome giocavo c'era un po' di postazione in cameretta c'era il letto mia sorella che doveva andare alla scuola il giorno dopo perché c'era camina la tua sorella moca la tua casa no moca solo ma potresti si c'ho qualche video ma potresti certo stream ma cazzo eh però cioè farei fifa bro streami dalle 9 alle mezzanotte e poi fassero mando baci a voi in chat mi sto costruendo le mie panna oh guarda quanto salga ci sarete tutte ai miei concerti vero? ci sarete tutte ai miei concerti si oh guarda come se li fa ma ma al mio concerto ci sarete tutti i ragazzi della genere ma posso guarda faccio vedere qualche video mio mentre stai streamando si ma quindi sei poco forte su fifa le vincevi di quelle? le vincevi di quelle? no facevo 23 si no ma questo fai qualcosa di buono nella tua vita messi messi ma dalla play? milionaire milionaire si si ovvio ragazzo no bestemmiavo come un bastardo ma non il pvr? no mi impostavo tutto un mio amico che sa fare queste cose io 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 attaccavo la base la nostra vabbè che so ciòfi mettici fuori le date dai sparane una allora questo questo molto probabilmente a fine novembre farò una data in acustica a Roma farò una data promozionale quindi ci saranno pochi posti è inizio dicembre a Milano ma vi dico che sicuramente a gennaio e febbraio farò delle date un po' più grosse tutte mie mi spaccavo il giorno mi auguro che possiate venire tutti una data a Roma o una a Milano siateci quindi quando non si sa il giorno non lo dico ancora però dovrebbe essere il 25 novembre a Roma inizio a dicembre a Milano però dati in acustico pochi posti tipo un certo posti ma acusti vuol dire che canti così che c'è a cappella con la chitarra io ce l'ho la chitarra questa sera fai un pezzo ok ma sei proprio un artista ce lo fai un pezzo? certo fammi la base e lui canta la sua canzone no questo non lo farò mai ti pago no bro ti pago ci cantare accanto a tosto comunque no basta riparto aspetta da capo da capo vai no no non lo farò mai dai dai facciamo allora esco dall'inquadratura ma c'hai l'arra però cioè vai ho cercato di costruire con qualcosa di io sai che canzone dedico quando sono innamorato? ingiusto di bello figo ok quello è bellissimo che fa? aspetta 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 la base scherzando mi siedo qui alla sedia vuota però devo farlo per forza disperati all'intra seconda ok e posso allora tre sì però se puoi ok esattamente questo e che sai che ero in difficoltà tranquillo non potendo parlare faccio una gelosia pregressa per questa cosa vai posso esser tuo puttano posso esserti di tutto chiamami se vuoi scopare si apri va più il citoforo dai è finita qualcuno apri il citoforo per cortesia? si this is the moment e questo è il momento e questo no raga no raga non fischiamo raga si si è tutto che non fai anche tu no io lo voglio non voglio lo devo dire lo devo dire? si no fra dimmi cioè devi devi è il content non so se mi manchi se ti voglio davvero se ti amo ti odio essere amore sincero ma son qui che ti penso e mi brucia perché anche questa canzone l'hai scritta te oh io l'ho scritta e fra mille paure diecimila fuggiti centomila messaggi ancora fotografie stop dai continua io son qui che racconto un'altra volta di te anche questa canzone scritta per te e e c'è un pronostico in corso guarda là aspetta c'è un pronostico vedi qua 91.000 punti per questo sondaggio sondaggio e che era lo zucchero eh no qua quasi vedono i candidati che ti pari la patrizia t'ho detto gravi non è su una raga è stata solo aia bro ci siamo fatti vabbè comunque riattacca riattacca il pezzo voglio più un altro ciao ciao franci ti pari di qua ah attenti ok e vabbè io sei soppena baciati davanti ai tuoi occhi tu non hai niente da dire ah non è la sua mi sa che ha vinto la chat zuccheri aspettate allora complimenti alla chat paghiamo il pronostico si paga qua bisogna pagare no no cosa paghiamo? sono boccato da solo ah perché c'è ancora tempo non è ancora scaduto ma come lo paghiamo? eh poi poi c'è il pronostico è terminato ma hai indovinato la chat che non ho capito eh ha indovinato ha indovinato no è l'altra quindi non lo so perché la tocchi dietro a lei cioè mi sa ah ok che figo adesso che c'è stato il pronostico c'è un emblema nuovo a fianco ai nomi eh perché hanno votato figo però è che è uno eh perché hanno votato l'opzione uno se no mi fa male il culo questa qua c'è brisi dai eh bro ti faccio spazio eh ragazzi stringetemi un po' si chiaro patrizio patrizio anzi patrizio l'ho chiamata patrizio oh comunque i capelli così sono meglio tutti da un lato io si prima ce l'avevi così guardami quanti stanno scommettendo sull'uno volano sono infogliati 111.000 no per me e vinceranno i 13 mili eh io rischio di fare gaff gentilmente qualcuna delle persone presenti in sala del quale non si può fare il nome potrebbe passarmi le sienna caps sul tavolo e lanciarmele senza far vedere nemmeno una parte del proprio corpo corbon devi dare qualsiasi cosa se io ero bravo lancialo no perché non me le passi grazie mille cara allora ma che cazzo mi piacevo il pronostico quando fai live ma non so questi pronostici non li avevo mai giocati così io avevo fatto il poll che è un'altra cosa no ma noi abbiamo scommesso noi cioè ora vai pronostica li abituiamo al gioco d'azzardo bello li saluto eh ma abbiamo pagato sto pronostico aspetta allora io ho noto una tensione incredibile ah no è da qua è un'impressione è un'impressione secondo me ma perché siete tutte e due che sapete dove è che è il coso di prima quello non è allora Dani non questo quell'altro a destra state giocando una partita a scacchi dashboard assolutamente ok allora ma scusa ma tu no scegli il prossimo risultato eh bro eh finito il pronostico che facciamo tu stai attento a quello che fai è quello che dici che facciamo seleziona lei signor Patrizio e deve fare Patrizio vai lì e scegli chi pagare c'è la gente che ha scommesso di te sto entrando che devo fare devi scegliere il quale tra le due la domanda in realtà è cioè con che tipo arriva Patrizio Patrizia Patrizia o Zuccherina cioè ma se la risposta non è nessuna delle due è uno si è arrivato con un uomo questo è lo questione arrivano solo ah regalo allora sono cambiati perché non erano questi giuro non c'era mai stato ma tanto cioè non si farà mai vedere questa ragazza ma che vorrei però loro lo vedono si io che ma può essere una cazzata vabbè è una cazzata no 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 poverini hanno scommesso in più bravo esatto bravo che sei stato sincero bravo no no non è vero bravo Patrizia bravo andiamo alla nostra destra E' uscito grosso No, vedi a specchio, coglione No, lui è tua nostra destra e fa così No, perché tu stai guardando lì No, lui ha fatto così proprio Ma lei, va bene E allora, per farlo vedere giusto in chat E' chiaro, è sveglio No, secondo me è stato stupido No, riga, non sono sempre stati questi No, ma non è ancora finito Cioè, perché vi ha messo 15 minuti Quindi tu hai scelto qual è il risultato Quando finisci in 15 minuti paga Esce scritto enorme Patrizio è arrivato con nome No, allora, c'è la mia mamma Comunque puoi mettere una base No, non ci voglio No, 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 no Allora Ma scusa, non te ne ho altre tre persone Sì, vabbè, ma non c'è Non sa organizzare È un manager di merda Mi dispiace, mi fa se rimanere male Però che ho messo tanti impegni Ma hanno fischiato Chi devo farci? Ma una fischiata all'ultima Finale alle otto e mezza era tutto a posto Anzi, alle nove e venti Abbiamo pure chiamato a cena Una persona che ci ha detto che era ok Ma si può pareggiarlo a fantacalcio Perché prendi coltarnato Tu cosa hai da dire su Cioffi Che ha palesemente fallito Sul suo incarico Non c'è nessun minacce queste Devo... L'unica cosa che posso dire Molto bene, carry me please Molto bene L'unica cosa che posso dire è Santa Maria Maria Santa Maria No, com'era? Questa non mi tange Più l'altra cosa mi tange Anche se con il core de Guzman Porca troia Questa è grave Cosa? Nora ha regalato 50 sub Ma Nora È tua? Tronculata Nooo Un applauso Nora Bravo Nora Ti stai prendendo benotto applausi da questa stanza Grazie mille Nora Grazie mille Nora Grazie mille Impazzita Nora È tua? No, non l'ha mai donato però Mai 156 vuol dire che ci ha messo il centone Di più No, 600 euro 2,50 euro Una costa 4 200 euro C'è messo Ma tu prendi 2,50 euro Non mi ricordo quant'era Noi prendi 2,50 1,50 euro Sono solo un culo a tu Grazie mille Nora Gentilissima Allora Ma che vuol dire che ci offri me ruba i mod Come funziona sta storia Che vuol dire Mi amore i mod Mi amore quei mod Sono 199 euro Vabbè non lo diciamo Non ci facciamo i grazie agli altri Grazie mille Nora Io vedo solo il numero di sub Ti ringrazio con tutto il mio cuore Vuoi una hit? Prendila pure dal tavolo tesoro Tra l'altro Come se fossero due Scusami Con questo regalo Sono il freneto Torna su Twitch Ciao amore mio Vi incontrerò tutti prima o poi Ti aspettiamo Nora Quando poi ci incontrerai Vieni a trovarci Alle All'allenamenti Da Patrizio Daizio Vieni a trovarci All'allenamenti Della nazionale New Dreams Venite tutti Quando volete Giovedì Alle 14.3 Vi aspetta il Danielone Vi aspetta il Davide No Davide non ci sarà Vi aspetta il Davide non ci sarà Domenico Stai però Vi amo Vi amo Non posso E' te C'è Stai Non lo so Ti c'è Stai Nebbero ma come fai Se devi fa qua la roba Non vai a giocare A giorno dopo Ci vedo qualche vento Che ti fa giocare Con i tatuaggi Beh io ho rischi Sono E' che E' che Cominciano No Rispite rovinare Tadua Di per dove Tadua Io Mi sono stato Per colparci Se non ha Giocava Il calzetto Nel destra E manca C'è Ho una fiera di tatuaggi Metto la maglia termica qua Ho una fiera di tatuaggi Ho una fiera di tatuaggi Che fiera C'è un evento Vai da un tatuatore Ma un tatuatore Già Mi piace Veramente La gamba Velosa E una Debilata Visto Che Ma che schifo E no Perché L'anno Ma dal 2021 C'è Un giorno fa caldo Un giorno fa freddo Allora Il giorno fa freddo Mettiamo questo Ma perché Perché Alle donne Spiegalo Alle donne Piace Piace C'è un po' Dei buchi Stanno già ricrescendo Li devo te li depilare Sulla sinistra Ma perché Sulla sinistra Depili Poi vario Magari il prossimo Mese facciamo la destra E questa La faccio ricresce Ma perché Ma io sono un tipo alternativo Ma io sono un tipo alternativo Fa un po' tutto al contrario C'è Smarto C'è la matita agli occhi Sei un po' punk E se non me lo fai Lo smalto Mi è caduto uno Mi è caduto uno Che italiano Giovedì c'è Marti Non lo sappiamo Non credo Noi mod bimbe di Cioffi Cioffi mi ha rotto il cazzo Mi ha arrabbiato Mattina mi raccomando Che se tu non viene nella mente Non si disputano Perché se ne abbiamo Con me Perché? No Qu'ho fatto con te Perché? Questa è la mia ultima presenza In live No dimmi perché Scusa Allora io direi La fan Lei è il più grande Diario non ti conosco Ma spero di vedervi presto Spero di vederti presto Nora E io direi che è il momento del freestyle Prego Mettela Carichissimo Oh mio dio Ciao Fi Ciao Fi Ciao Fi Ragazzi sto zitto Finita questa cazzo di realtà Mi merate In due Ti vediamo Ma pure da solo da zammare Capone Io mi faccio bicchiare volentieri No Ciao Fi Sei No Cazzo bravido Riccardo 1000 beats No Nora Sto attento Allora Riccardo Attacaccioffi Riccardo è il mio Più vicino Altro Riccardo è il mio Sì Ce l'hai Lo sai Da piccolo cantavo La paranza La mia nuova canzone preferita E il cielo nella stanza Ripeto la mia canzone Era la paranza Nora cambio il titolo Otto persone nella stanza L'hai capito frate Io sono un tipo a posto Questa sera in live C'è Daniele Tosto Ok E quando canto zio Con le parole faccio sex Ma non pronunciare mica La parola ex Yo Ok E chi è il più sfidante? No Continua solo Avanti ci offi Quando faccio freestyle Potrei andare agli infinito Chi ci segue da tempo Potrebbe aver capito Come il tuo programma che hai fatto Ex on the beach Ex presenti qui Ex si Ma non ho detto di chi È fortissimo Ma non ho detto di chi È di tornello Ah Faccio questa merda zio Da quando sono nato Perché dio Un bel dono mi ha donato Continua a farlo Anche se so che non vi piaccia Ho spagnato il congiuntivo Ma c'è il rosso Sulla vostra faccia E sai perché? Tu sai perché? Io non vi tradirò mai No Forse io non lo vedo Non farei sprizzi e slot Squared Scorri su play Che palli Io ho troppo paura di parlare Vai vai Prova No no Sto zitto Sto palesemente scherzando No ma qualcosa Vengo dalla strada Ok Dalla strada Non fanziate Bene Ok Ce l'hai? Che cosa? Ce l'hai? Vai vai te No non c'è niente Non c'è niente Lele Perché non vuoi parlare Ma secondo me Un po' di coraggio Devi cacciare L'hai capito frate Questa rima punge Non so che dire Non so che dire Perché non posso parlare Perché i miei amici dopo Mi potrebbero Chiare C'è tanta tensione In questa stanza purtroppo Perché se parlo Poi parlo troppo Patrizio che sorride Non c'è niente Non c'è niente Adesso questo freestyle Devo finire Ma se sei un uomo della giungla Qualcosa devi dire Adesso basta Per tutte queste palle Se sei un uomo di chi c'è E caccia queste palle Io Che c'è fa freestyle Prova Cazzo No regà È bene In mente C'è una roba greve Eh Adesso si vuole parlare di noi Parliamo di noi Che diciamo Non dissi in gas In mano Non potresti fare No Non è frizzantino Pat non è frizzantino oggi Dopo il gol di ieri Stavo solo scherzando Dove stiamo solo Gran gol No 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 Potete dire quello che volete Io come non ho fatto Faccio solo dei riferimenti Che potrebbero essere veri o falsi Ho già detto a tutti Che sto palesemente scherzando Ci fosse stato qualcuno Veramente in questa stanza Sarebbe già uscito A come siamo Io nel terzo Quindi non c'è nessuno Quindi puoi tranquillamente Di sali Se ci offri un ospite fisso Sciocalo di nuovo Non mi vedi più Ah Debo Ehm Fai partire Patrizio Ce l'hai? Ce l'ha Tanto Bro Ti giuro Su quello che vuoi Che non Infamerò mai Se puoi famarmi Ehm vai ce l'hai sta partendo patrizio, attenzione non parte in questa stanza zio, quanta attenzione ok i miei occhi potessero scatterei una foto in questa cazzo di stanza voglio Simone Noto perchè è un coglione e te lo dico sei fratello, Simone Noto vado veloce, forte, mica vado piano Simone Noto sai, è un vero siciliano le mie rime e il mio dissing sono un mix perfetto Simone Noto questa sera lui l'avrebbe detto quanto capartecioffi il ritornello è palese che cazzo dici, che sei un vero calabrese questo freestyle zio non vuole finire se c'hai le palle frate ora lo devi dire chi è che ci sta? ma perchè hai sempre la responsabilità è sempre a me che mi hai dato la responsabilità e vabbè perchè io mi conosco da porfa ma io non lo dico perchè ci sono 7 miliardi di persone in questo mondo io sto dicendo che c'è qualcuno nella stanza che potrebbe essere mio padre, mia zia, la tua migliore amica Pup, Simone Noto, Mauretto ma ci sono 3 figli quello c'è, basta, non si sa chi è non è che stiamo parlando con dei scemi bravo Tarzan ottimo indizio e sono molto belli almeno dici il colore dei capelli sono come le di Tarzan bionde hanno tutte delle belle forme culo tonde culo tonde come le mie scarpe giaco fluo caro Joffy di rap devi stare nel tuo bravo ti schiaccio ti schiaccio come una scarafaggio che fai? vado a fare gol scartoditti ma che fai? ma che fai? ok stai distrutto? si ah lui tu a lui quando faccio freestyle la polvere assaggio ma che cazzo dici che sei roberto baccio mi ricordo tutte le volte che sei stato in panchina non giocheresti nemmeno se giocassi modi mattina eh eh mi fai pensare quella ci avevo messo 20 minuti per dire quando faccio freestyle posso continuare a parlare adesso mi presento Cioffy il titolare l'hai capito frate questo freestyle che non si perda ti presento Daniele la riserva Cioffy mi eh io non ma io ti ho col 74 ma merito la numero 9 non faccio mai da solo ti ho fatto vedere qua ci stanno le prove eh caro Cioffy sarai tu che fai da solo qui tutti possono dirlo in coro Patrizio Davide lei e io veniamo sempre al postaggio come una figa tu invece di e forzi sfiga è bene è bene è bene è bene aspetta ce l'ho ce l'ho ok e te lo diciamo in coro parli tanto delle nostre tipe ma tu sei sempre solo si e non hai manco le prove in realtà in tutta casa non siamo 8 siamo 9 siamo 9 ma adesso prendi questa vibe non parlo delle mie tipe perchè zio non faccio hype e l'hai capito frate questa è concretezza a differenza vostra zio ho riservatezza io mamma sulla piede del piccio mamma mia sta pubblicità in merda vai 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 trovo un'altra questa com'è questa era bella questa la potete vedere no no aspetta è fattibile caro cioffi magari di me ci avrai più alto lo stipendio ma come la tua canzone se parliamo di fida di fuggendio bella bella e guarda le mie scarpe sono tutte gialle sei un'ora e mezza che racconti quante palle tante palle bambini io non faccio freestyle zio ho il rap col cuore a differenza tu che è una cartina io cerco l'amore ma sei così sfigato che gli prendo un percuno pure il molo a quante tipe ti trovi mi sa che rimani solo no ma no ma caro cioffi e riattacca no cambia la base però è proprio brutta è questa no dai volevo lei dai quella è carina se no c'è la tintarella tintarella è un perfetto bello ce l'hai? eh ci mette un po' e devo partire vabbè nel frattempo di che parlammo che tempo c'è fuori? vado eh vai va freddo eh caro cioffi no vedi di svegliare patrizio se no adesso dico tutto non solo un inizio ok 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 questa rima frate lo sai che ora da scavallo io ti chiedo un favore per favore giopallo l'hai capito frate questo qui è il mio vizio ora di chi ci sta così si sveglia patrizio quella davanti a me sta ridendo è serito io poi mi scrivo webbo è forte questo freestyle non ci spamma ti dico io che scrive webbo ritorno di mi hanno capito tutti bene adesso parla del tuo occhio vorrei dire una cosa ma non posso va pesante però aspetta allora senti vava la se non dici niente è uscito qua così a gratis non è uscito non ho detto niente ok sta provando l'anima davide no 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 fai dire un cazzo davidino ma che voglia c'hai dai forza fallo sto freestyle è imboccato tosto la nostra riserva è imboccato nella prima live mette tutti nella merda caro ciò caro ciò caro ciò caro ciò caro ciò sei un difensore perché sei qua a dire sempre le stesse cose quanto facciamo che quattrone non ne devo pensare quando forza freestyle se io ti metto a fuoco sono difensore ma lei è il tuo gioco e l'hai capito frate prendi nota sei così sfigato che non passi la barta a william a porta vuota e perdiamo per te poi bareggiamo per te e questa rima è finita sei così sfigato che sei entrato e hai affossato la partita oh non è vero è palestamente vero è palestamente vero ciao stai dicendo solo falsità se va a intergenziare neanche una se la dà se va a intergenziare neanche una se la dà è difficile di casa questo come è successo vero? peso brutto da su e io c'ho la maniera abbiamo un tosto nel caso dai vabbè sono io gli lancio una scarpa è tardi vero? eh la musica c'è la musica grazie mi scusi easy abbassiamo basta per l'istare ragazzi ragazzi non è mai successo è che a mezzanotte dai sì a mezzanotte non stacco mai a mezzanotte gli facciamo tutti un tag noi e le ex vabbè è pisciata non stacco mai a quest'ora ecco perché non stacco mai a quest'ora ok stacchiero a quest'ora ok dico una cosa ok stavo finendo? una cosa per gli amici hanno fatto tipo due o tre ore due in mezzo due in mezzo sono tre putti amico non la dico prego vediamo vediamo il vero format di questa serata mentre io e lei prima della live parlavamo mentre ci mangiavamo i sofficini che era molto buoni che ci ha cucinato era semplicemente inventare che ci fossero delle persone nella stanza come l'altro giorno volevamo fare una finta videochiamata in realtà potete girare la telecamera non c'è nessuno se non la non me va di fallo sincero fidanzata no vabbè la fidanzata di Daniele è nulla eeeh quindi non non diciamo falsità comunque quando mento mi mordo le unghie e non lo sto facendo adesso vabbè a parte gli scherzi è stato meglio farvi pensare che ci fosse qualcuno quando in realtà non c'è nessuno chiedo scusa se i miei tre ospiti non sono venuti ma recupereranno anche se penso che Tosto anche se penso che Tosto questa sera è bastato è bastato per 5 in serio ringraziamo il signor Tosto per essere venuto beh ma con me cioè è come dici cioè è normale caro Cioffi caro Cioffi vabbè ragazzi caro Cioffi come avevo sicuro del rap ti appendo al muro ok eeeh è stato un onore averti qua con noi in live quando vuoi la porta è aperta hai visto i gruppi vicini arrivano quando vuoi eeeh se ridici caro Cioffi riscendono probabilmente eeeh grazie a tutti di essere venuti in live grazie a tutti quanti grazie Cioffi di aver portato Daniele ciao Meri amore mio grazie a Meri di essere stata in live aver visto il live ero serio in quello che dicevo veramente poi volevo fare un minimo di suspense però è la verità ci fosse stato qualcuno figuratevi se Patrizio non avrebbe fatto uscire va bene comunque ci vediamo domani sera come tutte le sere alle 9 eh? cosa hai detto? dillo Pat dillo 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 poi vedete che non è mai colpa mia dillo tranquillo no ok sei tranquillo? ma vedi? no non ti vedo tranquillo no Cioffi cioè se ci lasciate di me te e Davide lui non mi fotte niente a nessuno se no Cioffi perchè mandi i bacchi sono umile eeeh grazie a tutti per essere stato in live ci vediamo domani sera con tutte le sere alle 9.30 è stato un piacere avere i miei amici sempre qui che mi supportano e mi aiutano basta da anni tosto lo rivolrò in live 100% con il suo caro Cioffi ormai è diventato un meme ma me rifaccio sentire al volo caro senso un lo caro Cioffi ma che c'è con la mamma caro Cioffi caro Cioffi caro Cioffi grazie a tutti di tutto ho coperto tutti vi voglio bene vi mando un bacione alla prossima a domani a domani chi cazzo stiamo fammi pensare Fernanda potete parlare ditemi un numero no dai stiamo Gaglietta hai spento? aspetta si si no non ho ancora spento aspetta mi hai rischiato eh aspetta non ho ancora spento ti ho detto immagini abbiamo perfetto oh mi è qua che è ancora staccato Greta Claudio come? anche tu puoi dirlo puoi dirlo aspetta lei aspetta un secondo che qui c'è un discorso interessante Patrizio è già Davide potevi dirlo e Davide dice a Patrizio anche tu potevi dirlo di chi ha parlato? della nostra storia ok va bene alla prossima bella a tutti ciao Sofia